Quando gli hai detto che portavi anche me, come l'hanno presa? Mamma non è la fan numero uno degli aspetti in casa. Mamma, sei in retarda. Scusa, ci siamo fermate per una sosta. Ma ce n'era quasi pronta. E tuo fratello? Ma non abbiamo mai avuto un gran rapporto. Da piccola ha iniziato ad avere questi incubi che sembravano molto veri. Però non succede più da anni. E sono un brutto sogno. Hai visto Michela per caso? La mia amica è venuta qui con me. Quale amica? Come quale amica ha cenato con noi. Non guardatemi così. Lei era qui e ha dormito con me in questo letto. Eppure nessuno qui si ricorda di lei. Non dovevi portarla qui. Questo non è un posto sicuro. Chiara! Chiara apri! Quindi tu l'hai vista? Sai dov'era? Non me l'ho solo immaginata allora. Non riesce tanto a distinguere la realtà dall'immaginazione. Tu mi credi vero? Tu lo sai che Michela era qui con me. No. 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 Grazie a tutti.